Io partirei dalla vicepresidente Schlein, poi magari se anche la consigliera Lontini vuole rispondere con la prima domanda, poi se qualcun altro degli ospiti ha voglia di intervenire lo può fare, io ho preparato un paio di domande per tutti per essere un po' più vari. Il 7 febbraio del 2020 a Padova Sergio Mattarella disse che il volontariato è un'energia irrinunziabile della società e che senza il volontariato non si sarebbe potuto fare fronte al Covid. Partiamo da questa affermazione per sentire cosa ne pensa. Grazie, buongiorno a tutte e tutti, grazie Deborah, voglio salutare affettuosamente tutti e tutte le presenti ma anche le relatrici e i relatori che siedono alla tavola rotonda. Io mi limiterò a farvi un saluto istituzionale, purtroppo sono rimasta bloccata a Bologna per la concomitanza con un'importante riunione della Commissione della Conferenza delle Regioni che mi ha impedito di venire direttamente di persona, ma mi sento pienamente, ci sentiamo pienamente rappresentati dalla consigliera Manuela Rontini che ben conoscete e che poi potrà proseguire a discutere con voi. Io rispondo volentieri a questa sollecitazione di Deborah, sono molto convinta delle parole che ha detto Sergio Mattarella, ma bisogna fare in modo, e questo mi riporta a ringraziare davvero per il suo contributo prezioso Mirella, la Presidente uscente che ho ascoltato anche io e che ha detto parole importanti e anche di monito alla politica, che da un po' di tempo ha smesso di esercitare forse la sua funzione più alta, quella di immaginare il futuro a medio-lungo termine, di non barcamenarsi ogni giorno soltanto sul commento a botta di tweet dell'attualità quotidiana, magari in attesa solo della prossima scadenza elettorale. Noi abbiamo bisogno di ricominciare a immaginare future, a ritessere i fili dell'ascolto con una società che sta soffrendo. Nella relazione di Mirella abbiamo sentito quanto le diseguaglianze stiano aumentando, allora è quanto la politica debba uscire da una certa retorica e dare risposte concrete che non possono che partire dall'ascolto, in questo caso, del terzo settore, delle migliaia di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, senza le quali, l'ha ben descritto prima la Presidente Mirella, non avremmo potuto fare, in chiusura del suo intervento l'avete sentita porre una domanda, cosa sarebbe stato rispondere alla pandemia da Covid-19 senza il volontariato? Lo posso provare a rispondere io da istituzione impegnata in prima linea sul fronteggiare la pandemia. Non saremmo riusciti da soli a fronteggiare la pandemia, questo perché solo grazie alla collaborazione fruttuosa con il terzo settore e il volontariato a tutti i livelli siamo riusciti a portare una spesa laddove da soli non saremmo riusciti ad arrivare, siamo riusciti a portare un medicinale a quelle persone che magari non potevano o non si sentivano di uscire di casa. Tante persone anziane nel nostro territorio vivono da sole, siamo riusciti solo grazie alla rete dei volontari ad arrivare capillarmente a dare risposte. Oltre 10.000 sono i volontari che si sono attivati, pensate, già nella prima ondata, nel primo lockdown in cui ognuno di noi aveva anche paura per sé e per i propri cari, invece la straordinaria generosità e lo spirito di servizio per la comunità che il volontariato in Emilia-Romagna ha messo in campo si sono fatti sentire. Questo mi porta anche a dire che nelle risposte pure importanti arrivate dal livello nazionale all'inizio non c'era stato un immediato riscontro di queste forti, importanti parole che ad esempio il Presidente della Repubblica ha detto, cioè si è date risposte importanti alle imprese, a lavoratrici e lavoratori, alle famiglie, anche quelle in difficoltà, ma non c'era stata una risposta adeguata a nostro avviso proprio al mondo del terzo settore che ha sofferto moltissimo, bisogna ricordarlo, circoli chiusi, sospensione delle attività, insomma c'è stata una grande sofferenza. È il motivo per cui Regione Emilia-Romagna, che già nella legge regionale del 2017 ha rilanciato il ruolo del terzo settore con una conferenza, con un osservatorio che ha un'attenzione particolare ai territori, a come si sviluppa il volontariato nei territori, ci siamo ascoltati, abbiamo messo a terra alcune risposte fondamentali e abbiamo potuto mettere in campo, oltre pensate, 11 milioni, quasi 12, di ristori dedicati esattamente al terzo settore. Questo ha permesso di dare un respiro, un sospiro di sollievo che ha puntato alla continuità delle attività delle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato. L'abbiamo fatto, lo dico con una battuta, con un gioco di parole, perché avevamo la consapevolezza di dover aiutare a non lasciare indietro proprio chi ci aiuta a non lasciare indietro nessuno, a partire dalle persone fragili e non autosufficienti, dalle persone anziane a quelle con disabilità, alle persone che abbiano altri tipi di fragilità. Prima ricordava anche il tema dei giovani, Mirella, ha fatto molto bene perché non c'è contraddizione nel dire che se gli anziani sono stati tra i più colpiti anche dagli effetti più nefasti della malattia, anche i giovani per motivi diversi sono stati duramente colpiti dalle misure restrittive che sono state necessarie per fronteggiare i contagi. Non vi rubo troppo tempo, ma voglio solo complimentarvi con voi per il lavoro che state portando avanti, per questo spirito di unità che vi ha portato a una mai facile procedura anche di fusione e di aggregazione, e questo devo farvi un incomio per questo sforzo che portate avanti, ha fatto bene, Mirella, a ricordare anche il ruolo delle magliette gialle, ma di tante altre esperienze che anche nel territorio di Ravenna e di Faenza ci hanno davvero aiutato e dimostrato cosa vuol dire essere una comunità che si tiene insieme nel momento del bisogno. Abbiamo non rinunciato nemmeno a sviluppare progettualità future, e quindi accanto ai 12 milioni di ristori abbiamo messo in campo comunque oltre 3 milioni di progetti a rete sui territori che guardano agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e abbiamo anche avviato per la prima volta il bando sulla solidarietà e il recupero alimentare. Per darvi un'idea abbiamo avuto una risposta straordinaria, avevamo stanziato 600 mila euro, ne abbiamo dovuti aggiungere altri 100 mila perché sono arrivati 69 progetti da tutto il territorio, anche nelle aree interne, nelle aree di montagna siamo riusciti a finanziarne quasi la metà. Quindi ecco, è uno sforzo congiunto, ci ascoltiamo, accettiamo spesso anche le critiche quando le cose non funzionano, ma siamo a disposizione perché questo è il valore che vogliamo dare al tessuto imprescindibile che il volontariato e il terzo settore rappresentano nella nostra comunità regionale. Lo sappiamo e abbiamo voluto far seguire alle parole di Encomio anche i fatti di un concreto aiuto e sostegno economico, ma anche di attenzione e di ascolto, così come abbiamo fatto per collaborare col governo per far ripartire in sicurezza le attività dei tanti circoli sui nostri territori. Quindi non è ancora finita, le vaccinazioni, come prima si ricordava in apertura, stanno aiutando molto, aiutateci a sensibilizzare tutta la popolazione, ma devo dire che i livelli di vaccinazione raggiunti in tanta parte del territorio dimostrano che questo grande spirito di sacrificio e di servizio per la comunità non è solo e proprio del volontariato, ma il volontariato è riuscito a trasmetterlo davvero in generale alla nostra società, perché è un altro dei suoi elementi di grande efficacia e di grande valore per noi e per il nostro futuro. Grazie davvero, buona continuazione, buon lavoro e un ringraziamento sincero davvero ad Hauser per tutto quanto fa, insomma per aiutarci a rinsaldare i fili di questa nostra comunità così preziosa. Presidente, direi che abbiamo veramente aperto col botto, quindi siamo stati davvero contenti di averla con noi e la lasciamo andare ai suoi tanti impegni e tanto c'è Manuela qui che rappresenta la regione come diceva lei prima, sicuramente alla grande. Grazie ancora. A presto.